Doveva essere ispirata la canzone di Fabrizio De Andrè, che era Angiolina. Mi piaceva il soggetto, era molto elegante, soprattutto per un ospedale. Cioè, me ne porta gioia! L'arte e il colore per abbellire le corsie dell'ospedale sono stati ancora una volta gli studenti del liceo artistico Piero della Francesca a donare 50 opere al San Donato di Arezzo. L'obiettivo è quello di rendere l'ospedale un ambiente accogliente, un ambiente a misura d'uomo, un ambiente all'interno del quale chi viene anche per motivi chiaramente gravi o importanti può almeno per un attimo godere del colore e della bellezza che questi ragazzi straordinari riescono a donarci. Le opere sono state realizzate dagli studenti su tele di dimensioni 70x70, andranno ad abbellire i reperti di diabetologia, chirurgia vascolare e della farmaceutica ospedaliera. I ragazzi quando disegnano sanno dove andranno i loro disegni e quindi non è disegnare così a cuor leggero ma è anche fare un percorso e sicuramente è anche un insegnamento di vita perché stanno facendo qualcosa di bello per gli altri. I quadri sono stati realizzati anche grazie al contributo del Calcit che da anni collabora all'iniziativa attraverso l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle opere. Adesso abbiamo quasi tappezzato tutto l'ospedale, quest'anno con questi tre reparti siamo a buon punto, però ci sono ancora altri reparti e il prossimo anno rifaremo questa iniziativa e comunque i locali del nostro ospedale ovviamente con questi quadri appaiono un pochino più colorati.